Rieccoci su Pausa Caffè per una notizia stavolta di alta curiosità. Pensate, questo ragazzo stava facendo semplicemente un selfie, come se lo fanno tantissime altre persone, ma lo stava facendo con un telefono non proprio da tutti, perché era un telefonino da ben 1200 euro, quando accidentalmente gli è caduto. Ma cosa ha fatto per far sì che finisse sui giornali? Praticamente dopo un primo tentativo fallito di cercare di recuperare questo telefonino, andando a cercare di pescarlo praticamente, ha ordinato di prosciugare tutto il bacino della diga usato per irrigare i campi dello stato agricolo, quindi ha causato anche dei danni. Non posso dire involontariamente, ma capiamo meglio cosa è successo. Voleva solo scattarsi una foto con degli amici a bordo di un bacino idrico, ma il gesto potrebbe avergli cambiato la vita. Mentre stava scattando un selfie, un funzionario indiano di 32 anni Rajesh Vishwas ha fatto cadere per sbaglio il suo smartphone da 1200 dollari in acqua. Per recuperarlo, prima ha chiamato i sommozzatori per scandagliare il fondale profondo 3 metri ma senza riuscire nel suo intento. Dopo il primo tentativo fallito, Rajesh Vishwas ha pensato di ricorrere a un metodo drastico. Ha ordinato di prosciugare il bacino della diga di Kerkatta, usato per irrigare i campi dello stato agricolo di Chattisgar, nell'India centrale. Il funzionario indiano è stato denunciato, accusato di aver abusato della sua posizione, e sospeso fino all'esito dell'inchiesta. L'acqua è una risorsa essenziale e non può essere sprecata in questo modo, ha detto al quotidiano indiano The National Priyanka Shukla una funzionaria dello stesso distretto. Rajesh Vishwas, che sui social ostenta lusso, gioielli e auto costose, si è difeso dicendo che il suo smartphone conteneva dati sensibili del governo e per questo doveva essere recuperato, aggiungendo che ha pagato di tasca sua il costo dell'intervento per far intervenire una pompa dopo aver avuto il permesso verbale da un funzionario locale per drenare un po' d'acqua in un canale vicino. Come racconta la BBC, ci sono voluti tre giorni per pompare dal bacino di Kerkatta due milioni di litri d'acqua, sufficienti per irrigarsi 100 ettari di terreno agricolo. Lo svuotamento è stato interrotto all'arrivo di un altro funzionario del Dipartimento delle Risorse Idriche, che ha annunciato la sospensione di Vishwas, il telefono è stato recuperato e non era più funzionante. Ora, oltre a essere senza smartphone, è anche senza lavoro. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.